I rapporti tra Umbria e Cina per quello che riguarda la diffusione delle eccellenze locali nel campo della moda e del design non si sono mai interrotti come vediamo in questo servizio. Lezione di fashion e di design sull'asse Perugia-Shanghai, la voglia di Made in Italy dei cinesi non è mai andata in quarantena. Non abbiamo mai interrotto i nostri rapporti con il partner cinese, siamo andati con le lezioni online con il nostro team di una decina di professori e di 15 studenti cinesi. Dal punto di vista delle lezioni e della formazione noi abbiamo sempre continuato con una serie di rassicurazioni quindi su questo fronte non hanno espresso timori. Talenti al servizio della creatività, design, moda, arredamento, oggi che si parla di ripartenza anche queste possono essere delle leve strategiche su cui puntare e il fascino evergreen delle eccellenze italiane. Soprattutto se noi poi pensiamo che a livello internazionale l'apprezzamento per il Made in Italy e insisto anche per l'artigianato locale, quindi il mercato tessile, l'industria tessile ma anche la cartotecnica sono dei reparti veramente d'eccellenza a livello mondiale. L'Umbro, il territorio Umbro è apprezzatissimo. Questi settori su cosa devono puntare in particolare? Io direi sulla sostenibilità e abbiamo tantissimi progetti nuovi che appunto vogliono far realizzare questi obiettivi delle Nazioni Unite dell'Agenda 2030.